il bellissimo quello praticamente con i droni è scrittato è tutto scrittato comunque che vuol dire cioè che escono i ricomperimenti anche a me poi mi è uscito delle armi quella verde immagino oppure quelli colorate con la rossa la rossa esatto o che gioseppe riuscita me le aperte di più a di casse il vestito di maria dei filippi so male che la vita che sta 2000 giovanza e poi ho perso un'altra subita consecutiva sai che messi dove è uscito è uscito il vestito con la d'italia con le tette grosse no vabbè sono male cioè è uscito quel vestito di castelli che sto indossando adesso no vabbè ma quando ne hai aperto tu e non è finita qui ho sbaccato neanche il vestito per giac no vabbè ma quando ne hai aperte eh non la so giovin dici non la so vado comunque stiamo a farsi bella in missione a mille di americolo eccessive a gesù e la zoa devo stare chiuso io ho giusto switch e fezza io uso la vecchia usa la vecchia ok a me siete pronti bene bene tu hai visto che sono state pacche di glimps bene la pena che stessa volevi di reale la vecchia e così vedete bomba anche a me vero perché avevano le sono veste di evil ma che carino è è ma che scusa ma però per costruire se metti scudi sono turisti sono colorati non mi fa tenerezza scusi colorati voglio la fin con leale anche qui no di schifo ma è schifo te l'ha detto ale ma è che chi è che ha vinto più spesso io ovviamente la cavia sono la delora live sono bravo è ovviamente il suo e che metto doveva oggi è strano guarda qui giocino diversissimo ma vista che bello dire dalla schermata di tecken oddio diversissimo amore più quadrato io che cliccò sempre x quadrato infatti ma ovviamente ovviamente per la giuca tutto parte ma com'è taggiù quello avete visto come funziona io non ho creata però ce l'ho 30 mila costa 21 ha vestito però no le personaggio 30.000 no il vestito il vestito costa 30 mila il personaggio 21 voce no 30 mila alle guarda mi dice qualcosa oddio che strano quello sono io mi hai rubato l'identità giova devi vedi che cosa sono ho avuto la skin gradi guardo vabbè è vero ma delle filippe pianta un suono i trovi che si è il vero suono capo della cartellaamo è mora vecchia è morta io sono a giochi a arrivare arrivando male perché da lontani ma che bella che almeno c'è gioco sì prima che quando in 22 sceni e troppo e capisci averne uno averne un appunto 1 però uno stupido va bene diciamo tra virgolette anche se averne due no ogni volta probabilmente se hanno mamma a marona mi travesse e merda agli schiacca ragazze stanno orte raga ragazzi non vedo niente io non vedo niente è durato l'ora sono i 4 adesso raga loro e vabbè dai mi sciottano ragazze non è un giocatore di merda glimps è che lontano oh arrivare da qua vabbè ma dai ogni volta così c'è il suo trovo ad attaccare mi attaccano in tre oddio ma quel troppo lato è tagliato un sacco hai visto? still alive? no e dai una raga hanno abbandonato un'altra volta ma la fammuk vecchia ma il mio carico è un po' aiaa ah ro raga non vedo niente vabbè bolo non riesco a fare nulla no no meno mali a schifo ma donna le 0 o male come zero come mai succede ale parlaci ma no salvo ho messo la ferita che non mi mette con cazzo aspetta ora vogliamo anche il fatto che tu stia male ho messo la storia di the band e si è risposta con la visata ormai ormai amica best friend comunque come mai hai la parola ma il covi dalle oppure pensi che se lo fa no 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 solo febbre però sono un po tutto chiuso la febbre scatto perché poi è che parlare da tess è babbo dai però abbiamo messo la mina appena sono entrato da quando cavi singolo ha presentato ma perché agli altri trova sempre i giocatori veloci a noi no noi siamo ricchioli di belli ah raga sono morti tutti raga ho finito a fumare ci sono ci sono bene perché non fumo quanto combattere insieme vai al e ti curo ti curo vai al e ai d'altro sono io non te neanche ale salvo ti è vero eh ma perché io io non abito per quelle ale raga ma raga poco la vecchia vi aiutate o te l'ho uccita oddio eh ma io tra io devo ma no tra la gente le palli giusto da distruggere mamma che non cura questo perché sto niente eh babbo si ciao perdiamo i ticket vai stanno curando ma che palle l'avevo appena acceso eh sì ma fammok che estrellato mamma vai ale ale come vedi il teggio brigo vai ale ale vai ale ma dai ma dai no 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 non è che brava eh ma aiuto ah io sono morta sono metto come che luce con lo non mi b b uno con la vita e uno con la così fattiva fattiva eccomi chi va chiamato guarda salvo su whatsapp il cellulare in carica appena finisce la partita lo prendo la valigia dove un pietro ecco qua traviato zucco no alle arrivo faccio in tempo no faccio in tempo alla fai a zero no non sei fatta perchè non ce l'avessi fatta comunque tranquillo oh cecchina te la vecchia aiutami ale ale scendi un attimo ale scendi qua oggi si prende salvo oh mi chiamo ale mi chiamo ale maybe ale oh cecchina te la vecchia in testa c'è tirata in testa qua l'elettrica no salvo oh ma che cazzo è aiuto tranquillatore buonasera give me b su from mother russia oh no salvo salvo arriva ah se la mi sta curando qualcun altro ok ah ciao ale io non vi dicono non vi riconosco questi costumi nuovi dovete darmi un attimo di tempo ti ha tirato qualcun altro qualcun altro che male ah mammo c'ho zucca hai tirato un altro valore ah mi vengono zucca tutta per passiva dov'è no 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 tenda bene alle arrivo la parte la cecchina tanga perchè la proie bravissimo arrivo arrivo ecco troia reti ghettare google fa e bucchino ma c'è chiara in testa giusto ho disfrutato la palla di giù club che no la palla di gioco all'altra pallona voglio posire chi ha capito guarda qua sono in due la raga vi cura venite qua ma che cazzo fa chiesto così trample magari ma solo la vecchia che ho ucciso castro mi sono fatto uccidere però l'ho confermata perché altrimenti a dare la moto di seguanti la scussita è nata bella sor ai colombia colombia ovviamente ti è ti è guarda che gemusel brutus switch face buonassero ragazzo torno tra poco ok no vabbia adoro c'è lei da risposta ha scritto anche ha 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 c'è giù eh lei da risposta ha scritto pure ha 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 c'è sto ma... c'è lei ha scritto per te si le ha risposto proprio celebra la digitale